Tre signore sono rimaste uscionate nella mattinata di oggi a Carpineto dell'Anora in provincia di Pescara a causare l'incidente incontrata versante al bosco nei pressi dell'ex ristorante La Roccia probabilmente un ritorno di fiamma del bruciatore che le signore stavano usando per cucinare i pomodori per la classica salsa abruzzese. A dare l'allarme la signora Sonia Petrocco rimasta illesa insieme ad un bambino che in quel momento si erano allontanati per lavare i pomodori. Immediatamente si sono attivati i soccorsi con i vigili del fuoco di Pescara e del distaccamento di Alanno Carabinieri di Peneci, Vitela, Casanova, Forestale di Carpineto e due ambulanze Una signora di 68 anni è stata ricoverata con ustioni di primo grado al Policlinico di Chieti Invece due signore di 46 e 61 anni, apparse subito più gravi, sono state trasportate rispettivamente a Naboli e Brindisi Sul luogo dell'accaduto anche il sindaco del piccolo centro Donatella Rosini che, scongiurato il peggio, ha voluto ringraziare i soccorsi per la tempestività sottolineando anche la difficoltà a raggiungere il luogo dell'incidente Quando ho sentito, ho visto questa fiammata, loro che urlavano, prontamente ho chiuso tutte le valvole del gas e ho preso il cellulare e sono riuscito a chiamare il 118 dicendo che dovevano mandare sia un soccorso che un'ambulanza ho descritto i feriti, come erano le ustioni e poco dopo già ho sentito l'ambulanza che arrivava, l'elicottero e adesso le ustioni sono fortunatamente di primo grado, non sono gravi quindi io spero che tutto si risolva subito, che le signore possano guarire al più presto Ecco, possiamo rassicurare tutta la comunità di Carpineto perché comunque ci si conosce tutti Sì, sì, infatti poi ho chiamato la signora qui vicino, la signora Maria è venuta subito sono arrivate altre signore, Nicoletta, insomma sono accorsi tutti per aiutarci ci hanno aiutato con i bambini perché uno fortunatamente era vicino a me e non stava nella stanza l'altra bimba dormiva e quindi hanno preso i bambini, li hanno portati con loro e adesso abbiamo dovuto fare tutte le pratiche burocratiche sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, tutti quindi fortunatamente ecco, il peggio forse è stato scongiurato, non lo so